100 cm. 100 cm. Oggi è tuo compleanno, auguri. Grazie. Però è parecchio che non fai un film. Dai, sono successe cose più importanti, è nato Pietro. Sì, 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 però cerca di stringere. Quanti anni è che vuoi vivere? 70, 75? 80. 80, però tolgo 20, e questo 80. Oggi compi 44 anni, quindi devo andare giù fino a qua. Ecco, guarda, questo è quello che resta. Auguri, eh, comunque. Come? Ma no, 80, che stupido. Che senso ha 80? Volevo dire 95. 95 anni, volevo dire. Mi ha preso in contropiede. 80 meno 44? 80 meno 44? 84? Che senso ha mai calato.